Pronti? La sai guidare Carlo più che altro? Mettiamoci le cinture. Del resto tu mi insegni che lui si è accese anche di giorno e casco bene allacciato. Prudenza? Sempre. Accendiamo. Sei pronto? Te ne pentirai sappilo. Quello è sicuro. Vai piano mi raccomando. Ora si fa un frontale subito. Così è contento il mio presidente. Dimmi che aria tira all'interno del vostro spogliatoio? C'è qualche personaggio particolare? Qualcuno abbastanza sveglio? Divertete che fa casino? Che crea scompiglio diciamo. Belluce è una roba incredibile. Quando parte e inizia a cantarci l'entrano è una roba incredibile. La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira scende e precipita giù. Svalutazione. Ho sentito imitare ci l'entrano meglio. a presto. a presto.